Salve a tutti, sono Mr. Antonieto e ora siamo ancora qui su Fear, acque cattive. Beh, l'obieto di primare è la selenazione di Paston Fettel, Spod, vabbè, andiamo, iniziamo subito, perchè mi sembra così ero basso. Ok, oh fanculo, stronzo, tutti meritano di morire, perfetto. Bellissimo. Allora, andiamo di qua. L'esplosione al porto di questa sera potrebbe non essere un incidente, abbiamo saputo che investigatori della polizia hanno rilevato prove di un violento scontro a fuoco. Sulla scena sono stati recuperati diversi corpi con ferite d'arma da fuoco e da esplosione. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni su cosa sia successo e perché. Ok, dopo dobbiamo andare di lì, eh. O anche subito, se non mi sbaglio. Sembra che, allora. No, dobbiamo andarci dopo, però. Granate, fucile a pompa. Non ci arrivo, devo fare il giro. Vabbè, se non sbaglio mi ricordo dove si va, però vediamo un po'. In questo gioco ci sono momenti di calma totale e momenti di... troppi nemici tutti assieme. E' questo che lo rende un po' molto difficile. Allora, dobbiamo andare di qua. Sotto. Topi di merda. Perfetto. Ok, adesso... dovrebbe diventare abbastanza anche tosta, eh. Se non mi ricordo male. Che cazzo ha che si sono calati? Stanno... Calando gli FPS a schifo. Nonostante non stia facendo niente. Ancora. Proviamo a vedere se si è sistemato qualcosa. Alma del cazzo. Dai, perché ti blocchi? Ok, messaggio. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Yay Knives. Ciao Bill, sono Yay Knives. Ecco, ho appena visto la tua email. Vorrei poterti dare più informazioni, ma è strettamente riservato. Cazzo, neppure io so a cosa serva. Per ora, guarda, concentrati sulle contaminazioni specifiche del progetto. Magari riesco a darti un po' più di dati appena finiamo il monitoraggio. Fine dei messaggi. Oh, che bello. Tutto sangue per terra. Però, non mi ricordo più cos'è che dovevo fare qui. Noi ci sono arrivati da là, dovremmo poter andare avanti, in teoria. Ah, aspetta, c'era una gratta da qualche parte. Se non mi sbaglio. No, mi sbaglio. Adesso mi ci vorrà un'ora e mezza per trovare la via dove dobbiamo andare. Da qua ci siamo venuti. Sopra. Andiamo di qua. Vediamo un po' dove si... Dove si gira. Sì, a volte è un po' intricato da girare. Ah, dovremmo riuscire ad andare di lì, però. Teoria, esatto. Esatto. Sangue. Tu che cazzo sei? C'è qualcosa nell'acqua. No, davvero. Oh. Respira. Andiamo, falla spingere. Oddio. Perché sembra... Io stia negando? Che cazzo... Sta succedendo? No, cioè, sti cosi qua fanno veramente venire l'ansia a volte. Oddio. Poi soprattutto sta roba qua che cade... E mi fa girare i coglioni. Questa porta è sparangata, ok. Andiamo avanti. Che due coglioni. Sto portando dietro a tutto. Mi sto portando dietro. Oh, cazzo. Fanculo. Alba. Se Vettel la trova... Se Vettel la trova cosa? Origin cosa? Che cosa sta parlando? Chi è Alma? Ne cos'è Origin? Bene, continua a muoverti. Vettel deve essere vicino. Fanculo. Colpite le luci. Fanculo. Cosa? Granata! Granata, a terra! Guarda, arrivati! Ok. Crepa, bastardo! Crepa, tu! Uomo ferito! Fatelo fuori! Vi salvi aiuto! Ma che dici con te sta giocando? Che mi fanno un botto di danno? Ok. No, deve essere l'influsso di avere fraps acceso. Che dà questi... Bersaglio avvistato! Ma no! Ma come cazzo è possibile che va... Che riesce a sparare a 300 l'ora col fucile a pompa? Rompite le luci! Cazzo! Vabbè. Controllo! Ma vuoi morire? Al riparo! Mi serve aiuto! Fatelo fuori! Ok. Dovevamo essere pronti. Adesso tenterò di non morire. Perché se no mi girano le palle. Perfetto. Sto cazzo di rumore... Sto cazzo di rumore... Grannata! puttana quanti cazzo sono ok se lui ha best un'altra ha eliminato l'intera squadra allora allora è un po' che non ci gioco per cui devo riprendermi la mano perché avessi indibituato a giocare anche ad altro quando ti perdi ti perdi si dammi le munizioni della mattellatrice bravissimo servono rinforzi adesso se 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 non aprono le porte però eh perfetto ok di solito in questi punti vado sempre con dieci c'erano sempre dieci di kit medici però registrando mi da un po' di lag e non riesco a mantenerli perché a me di qua mi sembra di esserci già passato questo ah no lo posso un altro operaio morto eh che c'aveva una pistola non serve a niente no questa non serve è andata di qua no no ah si allora si vede una sega ah no posso andare anche di qua ok vediamo qual'è la strada giusta madonna quando inverto i tasti bombi telecomandate stai sotto su superfici compresi i colpi dei nemici possono essere attivati a distanza perfetto mai usate tendo a usare di più le torrette per me qua mi sembra di esserci già passato però eh porca eh si ci sono già passato ma sta a vedere che adesso inizia a girare in tondo come un pirla eh fatti ma dio e talvolta non è così è difficilissima talvolta non si capisce dove si deve andare io sono passato di lì adesso di qua però insomma è passato poi c'era un kit medico no si da qua ci sono arrivato ahhh quanto mi sa sul cazzo sto questa cosa allora di qui non c'è niente a parte la grata che alla fine mi sa che era solo un giro per farti prendere come si chiama per farti prendere l'iniettore non dovremmo uscire mi sa di qua no ma di qua ci sono iiiiiii mi sto sclerando dove cazzo è sta cazzo di dove cazzo è che si va avanti punto mmm comprens di qua morti no mi sa di qua ci sono arrivato poche idee eh si da qua ci sono arrivato ahhh 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 allora riprendo il video quando trovo dove si va ho trovato dove si andava semplicemente c'era una porta qui che hanno aperto loro e bastava andare di qua in teoria questa non si gira spero ci vado di qua però di lì mi sa che non si può scendere dobbiamo fare il giro salvataggio checkpoint esatto siamo al punto giusto ok un morto due morti dove devo perdere il ciclo scuola perfetto è stato un cazzo non è morto un'ora e mezza che gli sparo ok ok vai insieme ai trip mentali qua ok il video di oggi finisce qua se non mi piace commentate e scrivetevi al prossimo video